pa 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 questa sera survival horror survival però più survival che vediamo se funziona sempre qui in live su twitch e io sono twitch ovviamente abbiamo già dei problemi di rete, di connessione di problemi, di rete, di connessione di rete, di connessione, connessione e di rete buonasera buonasera grazie a mister mustacchio che sceglie un tavolo buono no non è vero, era cioppi che aveva scelto un tavolo buono mister mustacchio invece ci assenti per la prima volta grazie drogato purtroppo con il lavoro diventa difficile seguire signor gatto, ma ogni tanto una capotina si fa grazie mille e grazie anche a insensuis che nome particolare mi pare che ti sei scelto amico mio già dal nome credo che sarà tutto buissimo allora non lo so questo gioco qui l'abbiamo comprato al day one e non l'abbiamo più toccato l'unico pirla che ci ha giocato è Manu ma Manu sapete non conta un cazzo ha detto che è il nuovo Days quindi sarà una merda e vedremo un po' cosa ci viene incontro grazie a Low Reims e a Harry Fan ma per il tredicesimo mesiversario mi fa venire un infarto non mi ami più allora ma com'è sto guardando il derby muto per ascoltare e vedere lei sul primo schermo sto notando un appuntamento fisso ma chi se ne frega il derby chi lo guarda più il derby siamo nel 2017 ragazzi il derby ma guarda te il derby ma va a caccare fiche ficherà ma vedremo vedremo io adesso signor Ciculo vado a vedere le sal precedenti visto che insisti grazie a Rattori Anzo grazie mille grazie a Dallan Gulon e sono 10 signor Gatto quale battuta tocca stavolta? non ce n'è sono 10 comunque lì sul precedenti non ne vedo c'è Edier credo sei contento? grazie a Xaika e grazie a Graik 13 proprio come Jason wow dov'era? Edier e sono Iseid Macy gattone bello grazie mille e basta siamo nerd qua oh dobbiamo essere tutti videogiocatoni vabbè un po' troppo andare qua un po' troppo il giusto ma un po' troppo manca poco 2018 ragazzi una foto con la renna una foto con la renna la renna di Pappo Natale grazie a Saint Swiss ho deciso per questo nome poiché il primo pezzo lo uso ovunque ah la seconda parte è perché sono svizzero ci sta ci sta mi piace come dice lasciata allora ti chiamo Insane va bene va bene grazie e grazie anche a Riki 3 come le gambe come emoticon ammiccante e grazie anche a Kurama come questo pigiama è orribile me l'ha regalato la mia ragazza ed è bellissimo Ferro non sarai bannato ma sei veramente un senza gusto e mi fai anche cagare mi fai grazie a Giovanni questo è l'inizio di una storia per i 9 mesi ormai più di tipbox rompo le scatole e ora prima che inizi il gioco per non rovinare la lore grazie anche a Bad e questa è la fine della storia come ma vi siete messi d'accordo ci sono rimasto grazie a Luthien e a Nilo l'ultima sub dell'anno paura e Riki in questo periodo di noia natalizza per fortuna c'è il gatto che ci fa passare del tempo ficcante grande gatto continua così continuerò però mi sono rimasto sulla storia vi siete come si sono messi d'accordo non è possibile uno ha scritto questo è l'inizio di una storia l'altro ha scritto questa è la fine della storia oh siete bravissimi cazzo allora c'è un'altra cosa allora c'è qualche problema con il bot di telegram e alcune persone sono state chiccate ingiustamente alcune invece devono rinnovare la sub ci sono alcuni problemi comunque non funziona benissimo rinnovare ci sta già lavorando tranquilli avete tutto il feticismo di sapere che cazzo faccio a capodanno ve lo spoiler sarò qui a casa mia non fare i cazzi miei faccio ovviamente qualcosa di interessante ma non sappiamo ancora cosa sicuramente guarderemo un film poi magari vediamo grazie a Davide nel mezzo del cammino di nostra vita faccio la resab e mi godo la partita bello bello mi è piaciuto molto bello molto bello quindi direi di iniziare a giocare e giochiamo vediamo un po' com'è con questo videogames grazie a Brankshire ti abbraccerei ma a 39 di febbre te li tieni te che già c'è carino che sta male e mi passa i malori qua Tangerine la tua resab è andata perduta non l'ho mica vista io amico mio non è vero 4 minuti fa l'ho persa io sono un coglione sono 4 wow buone feste cat house perdonami perdonami chi è? dark matteo il tempo vola quando ci si diverte eh si allora le opzioni le avevo già guardate se non sbaglio full screen v-sync si ultra ok audio ok ok news play no lobby eeeh browser no non mi scusami manu ah ecco mio dio mettiamo in ordine di paying no non mette l'ordine cristo eeeh allora qua c'è poco paying dai ma che cazzo mio dio eeeh mister brown nemesis se credi di spaventarti ora stasera non ti svegliare mentre dormi eeeh che cazzo mio dio grazie adesso non dormo proprio non va un cazzo bene così mi fa piacere grazie a saba visti i piani per capodanno si protegga con gentilmente offerto da me nel caso del film faccia cagare grazie grazie anche a matte non ho capito perché non va c'erano i server il lavoro è lavoro grazie a raikoku che regala la saba iemi scusami iami che cazzo devo fare ragazzi non ci capisco un cazzo potevo entrare un attimo fa eeeh però non è andato e che faccio ecco qui dammene uno eu con un po' di gente per piacere eu 10 di 15 fai va bene 37 questo no questo vai tiè grazie a sith è un font molto particolare molto premi w per camminare avanti giorno 1 il lavoro è lavoro la sensibilità per l'amor di dio come connessione interrotta dai sono appena sono appena arrivato dai non mi dire sono appena dai sensibilità del mouse per l'amor del cielo grazie a dave 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 mamma mia eravamo entrati eravamo entrati un attimo fa vediamo qui oddio ma non me lo aspettavo molto peggio graficamente no ma questo qui deve essere il gioco della vita una volta che è uscito quindi mai ora abbiamo un inventario abbiamo la vita al massimo l'idratazione 98 la stamina temperatura del corpo 36 sicchines sto bene stato mentale zero boh non so ho zero su 2000 calorie giornaliere quindi abbiamo fame trova l'acqua fai il fuoco voli l'acqua trova il cibo cucina il cibo ok ho una luce a manetta va va bene grazie bonsai buonasera signor gatto tra un mese si fa valdoria quella pesante nel frattempo tanti auguri grazie mille scusami sensibilità me la puoi mettere umana grazie cazzo l'ho abbassato tantissimo e pensavo di essere nella merda è perfetto vabbè allora io intanto giro un po' la manetta qua di questa locomotiva si sempre il signor insane bastava dirlo però che il gioco si basava sull'entrare ed uccidere dei server è bellissimo perché metto via questa cosa come lo metto via scusa metti via metti via no metti via metti ah con la zero con lo zero devo mettere ok vabbè fortuna che c'è la console in basso si fa così no non è minecraft però qui 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 c'è qualcosa c'è qualcosa qui c'è uno zombie lì c'è uno zombie che sta mangiando dell'erba sarà uno zombie vegetariano non lo sappiamo gli domanderemo cosa c'è qua fuoco oh 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 che pazzia aspetta aspetta ma chiudi la porta chiudi la porta non si chiude ma chiudila è finita fuoco anche lo zombie è stronzo ascolta chiudi sta porta per cortesia oh un t-rex è diventato un po' troppo e dormo ah che cazzo ah vabbè lo posso lutare no niente è sparito ok non c'è niente va bene e ci siamo già infilati all'interno del gioco grazie a Nosferatum ho stati notando una cosa seria è meno di 3 ma maggiore o uguale a 10 grazie mille grazie anche a Zengseed e a Sawweed che fa 8 mesi sempre grande con le sue novità auguro ne gattone grazie mille io non so che cazzo fare sinceramente no 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 non c'è niente qua questo oh del cupcake è un first aid kit ok che oddio ho 17 di vita quindi direi che questo lo devo usare non lo uso aspetta forse devo fare così ah l'ho usato first aid kit ok sono pieno di vita ok mangia il cupcake abbiamo 100 calorie ok mangiamone un altro 200 300 non l'ho mangiata il cioccolato e il cereale ok quindi abbiamo meno fame questo qui dove si fa la cacca è bella è bella sta casina però mi serve dell'oggettame chissà di quanto sono quei cupcake guarda ma contento che devo fare c'ho una mappa non ho una mappa non credo di avere una mappa almeno guida vabbè autocraft eh non c'ho un cazzo mi servono dei legni però questi non si raccolgono sassi vabbè andiamo di qua pensavo che ti potrei mangiare anche il cartone è possibile non lo escludo la casa di shrek addirittura magari ogni tanto mi droppa qualche frame però vabbè è guardabile no? è arrivato il toccatore è arrivato di cosa parla sto gioco? è un survival con gli zombie lo scopo del gioco è survivalare perché ci sono gli zombie e gli zombie sono pericolosi però posso fare niente io per ora che devo fare? grazie a quiara e a levin sky gli zombie aprono le porte vabbè era appena appoggiata quindi ci sta che l'abbia buttata non lo so non so un cazzo non vedi che c'ho già dei problemi motori qua la fame si tipo arriveremo da qualche parte no non credo sia horror per davvero fa paura perché mi son caccato ma perché mi caco delle pale eoliche si però perdonami bello tutto ma non c'è un cazzo aspetta di là c'è un sentiero seguiamo il sentiero un altro giocatore lì c'è la chat in game auto scroll no chat ha scritto non ha scritto hello sono cagato è horror sì è horror duro non ha perso la bellezza della natura incontaminata ci sono gli zombie che incontaminata ci sono gli zombie più più sporco degli zombie non c'è no 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 è online sì è online che bel sentiero sentiero una strada non c'era uno qua beh basta allora non si mani nelle orecchie che te devo dire c'è roba là in fondo lì in fondo c'è roba e c'è uno vedi che sta ruttando non c'è la chat vocale peccato aspetta fai vedere no audio voice eh eh non so eh non so che tasto è T no T mi apre questo giustamente il control no la X non lo so la W non credo sia la W non credo sia la W iscrivo hi do 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 food ho sbagliato ho sbagliato anche scritto piccolo non ho visto mi grato le mani nel dubbio mi piace sempre scrivere carri armati fa ridere non so e vabbè e se ne va così nella per la sotto no no ma ha scritto di no è magic perché è scritto molto piccolo ma ha scritto di no mamma mia mamma mia guarda qua il cielo che bello che ne sai tutti un campo di grano era veramente brutto quell'uomo pwe o pwp non ti so dire ci sono io 57 di ping mappa interattiva non è vero ma ha aperto una pagina che non c'entra assolutamente niente e lo scopo del gioco è sopravvivere è un po' scomodo tutto non solo la chat piccola c'è pure un prete ed ho un chillor scusami bello quando ho camminato dentro le frasche ha rallentato la corsa sopravvivere alla noia eeeh sì credo che per ora sia il nostro scopo abbiamo ucciso uno zombie dai è diviso in due squadre madonna joker buone feste grazie mille non ha il cinema più ma che ne so io avrà smesso si sarà stufato lì c'è un'antenna andiamo a vedere l'antenna antenna significa comunicazione comunicazione significa aiuto aiuto significa non morire tanto ho trovato un solo zombie un solo giocatore e ho visto tutto del gioco in pratica non ho ancora capito come si raccolgono i sassi cioè non i sassi le i legni per farla il fuoco però questo giocone lo stavamo aspettando un po' tutti da un po' e doveva essere un gioco fighissimo infatti se voi guardate i trailer sono una cosa incredibile ci sono le armi ci sono le trappole da creare di notte in pratica puoi mettere degli spuntoni davanti alla casa puoi mettere una bombola di propano con un tubo che butta fuori il propano fare tutti i buchi sul tubo e fare delle fiamme che escono da tutti i buchi per dar fuoco agli zombie che si avvicinano troppo eh eh beh ti ringrazio ma non c'era bisogno di iscriverlo veramente non c'era bisogno di iscriverlo te lo giuro grazie cappel cappel de paia va bene siamo a 7 buone feste cattone ci vuole sempre bene grazie mille dei polmoni nuovi ma mi serve un po' tutto l'apparato altro che polmoni la gola il naso tutto puoi anche costruire casa tu spero di si tanto queste cose funzionano tutte a merda ma perchè devi tirarla scusami avevo dei mesi un tempo no aiuto non sa scattare qua magari da questo legno posso ricavare del legno andiamo a vedere ah ah lo sapevo oh ok underscore underscore privato grazie mille scusa ho trovato un cazzo non leggo ok ok ma ha trovato roba o ah aspetta 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 mi ha segnato che l'inventario firewood ok cazzo me lo potevi dire stiamo raccogliendo del del legno da ardere grazie bucamela eh antonello non funziona benissimo ultimamente ha qualche problema perchè twitch si è fottuto è un uomo di legno nudo ma che ne so ma che ne so posso qui no de babbovi grazie mille detto giusto babbovi babbovi ho perso 0,50 gradi ad occhio per leggere ma dillo a me la domanda era per theids perdonami a lei bucumela bucumela che comunque no io non non era un palo del telefono quello di prima era un albero ah e che di quelle volte eh no non è vero eccolo qua arriveremo a questo traliccio no la grafica è bellissima guarda quale ombre guarda guarda il sole la luce del sole che passa è bellissimo so che bagnoschio ma usi gatto ah va bene quale oh no no salta non salta ok abbiamo trovato delle scatole finalmente non sono scatole sono dei giornali oh cristo deni st posso rampicarmi qua io 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 non lo so steve buon 2018 grazie mille e mi ammazzo tra poco ah eh si troppo sono un po' stanco non so se avete intuito ma ah 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 ragazzi però basta chiedere qual è lo scopo del gioco è un survival lo scopo è sopravvivere non è difficile survival sopravvivere non ci stiamo riuscendo molto bene perché stiamo morendo già d'ansia però il resto va bene insane grazie mille stasera on fire nulla li dono solo perché mi piace la canzoncina vabbè lo accetto eh lo accetto non accetto che non si stia arrivando a niente lì forse vedo una casa andiamo a vedere eh rinventare vediamo se c'ho del craft però non credo sai no perché qui mi dice come fare è un un fuoco però non c'ho niente un tavolo buono che conosco in proprietà ma c'è Markedon ha scritto questo no non ce l'ho la mappa se c'avessi la mappa sarei un uomo felice eh un cartello però non è un cartello è veramente days ragazzi porca troia è veramente days 2 quanto costa? una ventina se non sbaglio magari non ci sono i zombie perché è giorno è più che possibile una macchina dai che magari c'è da lootarla dai 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 che la lootiamo adesso vedremo cosa c'è all'interno di questa macchina troveremo una pistola e ci spareremo almeno in days ogni tanto trovi qualcosa ci sono edifici in days oh dai neanche il bagagliaio c'ha però spero ci sia un tuto città eh ci sta ero è casuale paffina buone feste gatto 3 2 1 bello 3 2 1 potrei farci una donazione che fa 3 2 1 si però ragazzi io tra poco mi sparo oh delle industrie oh dai abbiamo trovato qualcosa come war z oi là non sei stata tu paffina eh allora non so cosa dirti dai abbiamo trovato le industrie ci siamo è fatta guardala lì guardala lì eh simulatore di corsa oggi con una grafica migliore e gli zombie eh uno l'abbiamo visto dai uno l'abbiamo visto che tre giorni di viaggio guardate che in 20 minuti ci siamo ci dobbiamo dare degli obiettivi ragazzi non possiamo c'è una casa prima dai c'è una casa così lontana eppur così vicina sempre se non muori prima di arrivare c'è un infarto eh sì e ne mancano 25 alla fine della live cosa devo dirti zanxio tra l'altro domani mattina no live magari la facciamo domani pomeriggio eeeh domani mattina no non è vero che cazzo dico non è domani mattina venerdì mattina no live scusatemi domani mattina si fa la live si fa domani è venerdì mattina che non la faccio me lo dovete ricordare però domani sì venerdì no perché dobbiamo portare Sif alla scu c'è gente c'è qualcosa c'è del rumore aaaah dio mio dio mio dio mio aaaah Che cosa è successo? Spero di essere spawnati in un posto un po' più bello Tra l'altro sentivo uno che gli sparava lo zombie Oh, guarda le case che ci sono lì Oh, dai, siamo spawnati in un posto più bello Mi sento sparare, ottimo Oh, dai Siamo stati uguali a prima Sono io il proprietario, Mr. Ciompi, grazie mille Sparano Come sparano Ci sono le armi Sì, 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 ma è pieno di armi È pieno di cose da fare È pieno di armamenti Il problema è che Days Come Days, Days Trovi un'arma ogni morte di papa Trovi una munizione ogni due morti di papa Quindi Sì, veramente, non c'era uno zombie a pagarlo È l'unico che ho trovato ma ha ucciso È a pagamento, sì, è a pagamento Ok, siamo arrivati qui In questa piccola cittadina che finalmente abbiamo trovato del loot Spero Dai, cazzo è grandissimo Se non trovo qualcosa qua mi ammazzo io Eh, lo so che nel sito del gioco c'è la mappa Ma porca miseria però Eh, c'è uno ciccione Eh, no Eh, no Eh, chiudi sta por... Mamma mia Chiudi la, chiudi la, chiudi la Niente Niente Cazzo Eh, ok Se ne andrà È un po' strano Cos'era Quella cosa Ah, posso Metterci un lucchetto Ma non ce l'ho Fabi Bubi Buonasera Gattaus Tante care cose A lei, a lei È un po' strano 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 corri corri coglione mio dio che cosa sei ho sbagliato aiuto eh sì salve dai che è grasso lo seminiamo non ha saltato la stagionata succa mio dio è agilissimo è uno zombie grasso agilissimo che storia eh sì chiuditi chiuditi dov'è la porta ah ma visto dio mio cazzo cazzo non corre non corre mi menano ah che paura corri non ti fermare e ce n'è uno lì davanti che palle grazie grazie The Hival The Hival The Hival grazie The Hival ah eh sì eh sì eh sì ma che cazzo mio dio ho prurito all'occhio ho preso paura ho preso paura ho preso paura cazzo Uff uff Pagano in giacca da me uff 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 e ho capito io però forse un pelo troppo così gira la manetta qua la prima vergine e dai io mi son cagato durissimo fa abbastanza cagare il gioco emoticon della sera eh si no non è che sono intelligenti di zombie che hanno un agro di 12 km cazzo non possono scappare dai e non me li possono fare anche che saltano è veramente OP quella cosa la cioè è troppo cos'è questa cosa come dovrei sopravvivere io in questa situazione qui quello lì è zombie o un uomo? è zombie? si da lì mi ha grato che poi non ti droppano niente fanculo ti droppassero roba anche ok l'unico che ho ucciso non mi ha droppato una sega però devo dire che l'ambientazione è resa proprio bene mi sto cagando adosso no non ficca il gioco ecco e si che cosa arriva qua un dinosauro eeeh va bene che devo fare peggio di zelda come ok ha smesso di rincorrermi no non ha smesso di rincorrermi bello che lui c'ha la musica c'ha uno stereo dietro lo stereo con la musica horror che più si avvicina e meglio si sente mara non so cosa grazie mille non ficca un cazzo non ficca un cazzo voice meter no non so cosa sia vedo una schermata completamente nera e beh siamo là e no vabbè ma ancora ma che palle mi ero appena fermato gli zombie ti sentono perchè ha il certo vocale aperto e non so quale testo è vuole fare a pugni questo farabutto sono in due sono in due niente me ne vado me ne vado si potrà nuotare non lo so perchè mi inculano prima quindi aiuto aiuto e che sta succedendo sto morendo grazie amici o mia o io non ho capito non so nuotare ci sta un po' strano la chitarra 13 mesi grazie mille il mio personaggio non sa nuotare ci sta ci sta e quindi ce ne ho questa splendida torcina all'in fondo c'è uno zombie qui c'è un veicolo o no vabbè che pane non so dove andare andiamo di qua l'acqua ti uccide come nei migliori platform per playstation 1 la luminosità non è al massimo ma è regolata giusta diciamo però è molto buio grazie maica allora non voglio essere magari un po' troppo trascendentale ma credo che lo disinstallerò finita questa live cos'era e d'occhi d'occhi ne parlano tutti bene che è particolare io non so cosa sia c'è ho visto qualcosa non so se avrei il coraggio di giocarmelo le armi ci sono però bisogna trovarle che noi non abbiamo trovato un cazzo ci sta gabriel ci sta ma in realtà di robe successe sono successe sono morto e non posso rifondare perché mi ha convinto quell'imbecille di manu a prenderlo dall'ambo allo store quindi non lo posso rifondare me lo devo tenere d'occhi d'occhi non si può smettere va giocato tutto in una volta però si faccio rifondare da manu che tra l'altro ogni volta è lì con sto cazzo di linker e ferra dell'ambo all store posso dire che mi sono rotto i coglioni di questo gioco ecco qui mi sono rotto i coglioni mi sono proprio rotto durissimamente i coglioni di questo gioco e guardate faccio vedere questo faccio vedere questo ecco ecco sono rotto le palle sono rotto le palle che cazzo dai e che cos'era che palle cazzo cazzo che palle eh si passa al solitario di windows no che troppe emozioni poi dopo rispetto a quelle che ho avuto finora eh però ci abbiamo ancora 5 minuti e come li impieghiamo questi 5 minuti non so io come li impieghiamo gli ultimi 5 minuti lo so io lo so io ragazzi lo so io lo sapete anche voi lo sappiamo tutti lo sappiamo lo sappiamo tutti lo sappiamo tutti come impiegheremo gli ultimi minuti lo sappiamo tutti lo sappiamo tutti come finiremo questi ultimi minuti no 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 ciao bimbo ciao bimbo qui ciao bimbo ciao bimbo ciao bimbo ciao bimbo ciao bimbo colpotino è incredibile Grazie. Grazie. Sono partiti benissimo e abbiamo finito meglio. Io ho troppa pazienza e non è vero. Sono un po' frustrato dalla vita attualmente, soprattutto questa sera, è stato un momento un po' così. Tanto c'era un gioco che mi aspettavo fosse bellissimo, che mi aspettavo da una vita da giocare, godermi. Ho detto cazzo lo faccio in live stasera, potevo fare qualcosa di un po' più, non so, potevo fare GTA. Ho registrato, ho installato GTA, ho giocato con Karim, ma oggi abbiamo fatto una cosina Karim. Avrei potuto far quello magari, visto che ho fatto anche degli acquisti in Italia GTA Online, però ho detto no. Cazzo c'ho quel gioco lì, no, no, non giochiamo, non giochiamo. Facciamo quel gioco lì. Ho detto cazzo che bello che deve essere quel gioco, non vedo di giocarmelo. E allora lo gioco questo gioco e si rivela essere uno dei giochi più noiosi che io abbia mai giocato quest'anno. Poi, mappa un po' di sofferenza, ho chiuso il gioco, l'ho disinstallato. E ho avviato Getty Noverit, non l'ho avviavo da tempo per dei motivi giusti, come ad esempio fa venire la bile a chiunque, soprattutto a me che ci gioco. E ho detto vabbè dai, vediamo dove sono arrivato, dove non sono arrivato, giochiamo a sto Getty Noverit. Tanto siamo sempre qui in sto cazzo di paiolo, non abbiamo ancora risolto niente. Faccio una citata perché ho sposto il mouse. E niente, tanto il mouse si è appoggiato sulla tastiera, quindi abbiamo sbagliato uguale. La questione rimane spinusa, perché poi dopo ero al solito punto di Getty Noverit, quello lì dell'ombrella. E però niente, non si riesce, non si riesce. Quindi credo che mi andrò ad uccidere, soprattutto perché volevo avere un video pronto per domani, ma non ho un video pronto per domani. Probabilmente dovrò montare tutta la notte per avere un video pronto domani. Credo che mi ucciderò, sì, credo che mi ammazzo finita la live perché, eh, volevi, eh. Non succede adesso che ho fatto la sub. Ah, vabbè, allora al mese prossimo. Ok. Però in live mi devo uccidere, eh, vabbè. Se raggiungo 1000 sub questa sera, mi fate 1000 sub e mi uccido. E poi divido i miei guadagni tra i miei amici, la mia ragazza, i miei genitori, Gesù. Mica, sbamolo, grazie del consiglio. Non monto mai tanto per... Ed eccoci qui, come sempre. Finita la live. E' lo stesso punto dalla quale siamo partita. Partiti. Quello... Noi abbiamo fatto quello, noi facciamo quello. Ogni volta lo avviamo, perdiamo tutti i progressi, recuperiamo tutti i progressi e chiudiamo in bellezza. Tanto con una perdita di spettatori incredibile, quindi... In modo non li ho inclusi per un motivo molto specifico. Grazie. Grazie. Grazie.